Quando la fiducia verso il Presidente della Repubblica è molto elevata non è un buon segno, non per la figura del Presidente naturalmente, quanto perché la fiducia verso le cariche istituzionali che stanno al di sotto è bassa. E' questo, secondo l'assessore regionale alle riforme istituzionali Riccardo Nencini, il dato da prendere come punto di partenza di un'indagine commissionata dallo stesso assessorato alla società EMG, con la quale si è voluto mettere a fuoco il rapporto tra i cittadini toscani e le istituzioni. Quello che emerge dallo studio è che la crisi della politica ha origine da una difficoltà di partecipazione che riguarda soprattutto i più giovani, che non si sentono rappresentati dai partiti e si sentono esclusi anche dalle decisioni che li riguardano più da vicino. La regione allora intende muoversi fin dai primi di marzo in due direzioni. Assegnando il voto ai sedicenni per le elezioni circoscrizionali, intanto per gli altri punti di decentramento cittadino, primo, secondo, utilizzando le loro forme di comunicazione. La necessità di cambiare le forme di comunicazione è ampiamente confermata dall'indagine, che dimostra come oramai la metà dei cittadini toscani, dato comunque in continua crescita, si informi anche o soprattutto utilizzando internet.